Non ha 11 anni Melina, magari, cioè magari, no, magari, che magari, ho detto, fortunatamente no, magari, scusate, è un lapsus, ma fra è un lapsus, è un lapsus, scusate, non volevo dire magari, non volevo dire magari, ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe, fra, volevo dire, tipo, fortunatamente no. Dai tranquillo, brother, sono cose che succedono quando si entra a lì.